AcquaFair 2019 Siamo allo stand di Gruppo Sam Watertime e ci troviamo in compagnia di Stefano Piccinini il suo presidente e direttore commerciale Buongiorno a tutti Stefano, intanto spieghiamo che cos'è Watertime di cosa si occupa e quando è nata e come si è sviluppata negli ultimi anni Ecco, dovremmo sederci, stiamo qua qualche ora e poi ne parliamo Diciamo in un minuto, racchiudiamo il tutto in un minuto per renderlo fruibile da parte di chi è dall'altra parte Allora, in un minuto Watertime è una società di distribuzione di acqua in boccioni installazione di refrigeratori per la distribuzione di acqua in boccioni e refrigeratori allacciati alla rete idrica Il terzo attore in Italia opera dal 1998 fa parte del Gruppo Sam dal 2002 a circa 22.000 macchine installate di cui 2.500 a rete idrica con 52 addetti e 600.000 boccioni commercializzati Tra i leader certamente del fuoricasa Stefano, perché qui ad Aquafel 2019? Perché noi facciamo parte di questa associazione dal 2000 ci abbiamo sempre creduto, continuiamo a crederci anche quest'anno abbiamo investito non sono cifre molto impegnative però molto importanti ma sono comunque impegnative sempre per tutte le aziende l'importante è crederci noi abbiamo sempre creduto nell'associazione e crediamo che soprattutto in un momento come questo in cui si parla tanto di plastica anche devo dire in modo sbagliato e qui potremmo aprire un capitolo che durerebbe secoli però qualcosa bisogna fare quindi bisogna trovarsi bisogna scambiarsi le opinioni bisogna ragionare insieme e trovare soluzioni giuste poi per il consumatore finale soprattutto se mi permetti educare perché vietare è più facile che educare Stefano, Watertime è presente solo in determinate aree nazionali o in tutta Italia? No, siamo presenti su tutto il territorio nazionale ovviamente per motivi logistici il sud viene servito tramite aziende nostre partner ma copriamo tutto il territorio nazionale isole comprese e allora per tutti coloro che sono all'altra parte e magari desiderano avere un contatto commerciale con Watertime qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per avere informazioni senza alcuni impegni? Pensavo di dover lasciare il mio numero di telefono tanto ormai ce l'hanno tutti comunque l'indirizzo è info www.chiocciolagrupposan.it Grazie Stefano grazie per la collaborazione e grazie per aver citato ancora una volta Watercoolers Italia che è l'associazione che ha organizzato questa biennale dell'acqua a Venezia grazie per la collaborazione ciao Stefano grazie a te ciao Fabio ciao a tutti grazie a te